Suor Eugenia Bonetti, religiosa della Consolata, simbolo vivente della lotta contro la tratta delle donne. Come è nata la sua vocazione, Suor Eugenia? La mia vocazione è nata nel 1954, quando all'età di 15 anni ho letto su Crociata Missionaria la storia di una Suor Eugenia Cavallo, missionaria della Consolata, che era stata uccisa in Kenya nel periodo dei Mau Mau, della liberazione. Nell'esuberanza dei miei 15 anni ho detto che lei è morta e io dovrò prendere il suo posto, perché questo posto è rimasto libero, non c'è più nessuno che possa fare del bene come l'ha fatto Suor Eugenia per 38 anni. Quindi lì poi dopo diversi anni, all'età di 20 anni, sono riuscita a entrare tra le Suore della Consolata, ho fatto la vestizione e con mia grande sorpresa mi sono sentita dire prima ti chiamavi al secolo Maria Maddalena, d'ora in poi ti chiamerai Suor Eugenia. Quindi il mio nome è legato a questa prima Suor Eugenia che è morta, alcuni anni dopo sono partita per il Kenya. E in Kenya ci sono state 24 anni. Ecco, il Kenya quindi è l'inizio della sua missione, il suo primo impatto con quel paese e soprattutto con la condizione femminile in Africa. Il primo impatto con l'Africa per me è stato un impatto di sofferenza nel vedere ancora la povertà di quei popoli, però anche di tanta gioia, di tanta speranza perché immediatamente mi sono inserita nel mondo dei giovani e nel mondo delle donne. E lì ho scoperto un mondo bellissimo di persone che veramente sanno vivere, sanno operare, sanno lavorare. Le donne hanno delle caratteristiche molto spiccate, la loro gioia, la loro gioia di vivere, la gioia della maternità, la gioia dell'accoglienza, della capacità di industriarsi perché alla famiglia non mancasse niente, molto lavoriose. Donne che veramente vivono la loro giornata cantando, lavorando, occupandosi di tutto. E poi c'è sempre posto per qualcuno. Ecco, io ho imparato moltissimo dal mondo delle donne africane ed è per quello che l'Africa me la sono portata nel cuore, me la porto nel cuore perché a contatto con 24 anni è stato veramente un ritrovare una famiglia, una famiglia allargata come lo sono loro, soprattutto il grande senso della maternità che mi ha sempre colpito nel senso della religiosità, dove in loro tutto canta, tutto vive, tutto ha uno scopo, dove veramente Dio è presente. È molto bello anche alcune esperienze che loro hanno, vivono e che noi abbiamo colto. Per la donna africana, lei, la sua vita si appoggia su tre pilastri, Dio, la famiglia e la comunità. Poi un altro bellissimo esempio che mi è sempre ricordato con tanta bellezza è che la donna africana è considerata il palo centrale della famiglia. Crolla il palo, crolla tutto. Crolla la famiglia, crolla la società e crolla la chiesa perché la donna in Africa ha un grande ruolo nella chiesa. Ecco, il ruolo della donna nella chiesa in Africa e non solo in Africa. Ecco, veniamo alla tratta delle donne. Come è arrivato a questo dramma che si consuma in tantissimi paesi dell'Africa, dell'Asia e che poi si riverbera drammaticamente qui nei nostri paesi occidentali? Ecco, il dramma della tratta di esseri umani io l'ho conosciuto per la prima volta nel 1993 quando tornando dall'Africa mi è stato chiesto di operare in un centro di ascolto della Caritas di Torino ed è stato proprio lì che ho sentito per la prima volta una donna che mi gridava aiuto, chiedeva aiuto. era una donna nigeriana. Io non conoscevo nulla di questo mondo, era un mondo completamente sconosciuto ma il grido di questa donna ha svegliato in me un qualche cosa che dopo che ho capito che quella non era una scelta che loro facevano, avevo capito che io avevo a che fare con una forma di schiavitù, la terribile schiavitù del ventunesimo secolo dove migliaia e migliaia di donne venivano prese dai paesi cosiddetti di missione, paesi poveri di missione per arrivare e essere portate nei nostri famosi paesi ricchi dove veramente c'è una grande povertà, una povertà di valori loro hanno una povertà materiale ma noi abbiamo una povertà di valori quindi queste due povertà si sono incrociate e da allora ho incominciato a lavorare perché questa prima donna che mi ha svegliato, che mi ha scombussolato e mi ha fatto capire che cos'è la tratta di esseri umani è diventata la mia maestra, è diventata la mia guida e allora, da allora, come religiosi noi abbiamo iniziato a lavorare e dare risposte a queste donne perché abbiamo capito che avevamo a che fare con una lunga catena una catena fatta di molti anelli dove ogni anello aveva un nome, il primo soprattutto il nome della povertà la povertà di questa gente che cercava di scappare per trovare un certo benessere per loro e le famiglie e invece erano vittime delle mafie, di nuove mafie perché entravano a far parte di queste grosse istituzioni internazionali e trasnazionali di sfruttamento senza che loro lo sapessero quindi questo primo anello della catena che deve essere spezzato poi c'è l'anello della corruzione, una grande corruzione dove tutti guadagnano dove loro sono le uniche, queste donne, queste giovani che perdono poi c'è l'anello di chi chiede, del cliente, di colui che cerca questo sesso a pagamento e qui purtroppo noi abbiamo ancora molto a che fare perché non siamo ancora riusciti a dare delle risposte a riguardo di questo si poggia sempre lo sguardo sulla donna, si condanna la donna per questo sfruttamento ma mai che viene fuori la questione della richiesta del cliente perché lui è uno degli anelli più saldi di questa catena poi ci sono i trafficanti, ci sono i governi con le loro connivenze e a volte c'è anche la Chiesa con il nostro silenzio, con la nostra indifferenza i nostri cristiani che si accontentano di guardare, di denunciare, di condannare ma che cosa facciamo per risolvere questo problema poi c'è anche la responsabilità dei mezzi educativi i mezzi della scuola, i mezzi di comunicazione sociale perché dobbiamo tutti essere coinvolti per rompere gli anelli di questa terribile catena per ridare ad ogni donna ecco la gioia di vivere la propria femminilità la propria dignità e la propria libertà e allora da anni con altri suori in modo particolare in Italia noi abbiamo circa 250 religiose di 80 congregazioni che soprattutto all'inizio del 2000 l'anno del grande giubileo abbiamo voluto lasciare un segno proprio per spezzare le catene di questa terribile schiavitù del 2000 e ridare ad ogni donna la gioia di ritornare ad essere una persona libera con la sua dignità con le sue capacità e con la sua forza di rimettere al posto giusto ecco la presenza di ogni persona dall'uomo e dalla donna perché solo lavorando insieme in armonia noi avremo un grande compito da compiere perché noi ridiamo alla società l'equilibrio non in competizione ma in comunione ecco questo è il modo più bello con cui noi vediamo oggigiorno moltissime siamo riusciti a recuperare soprattutto dagli anni 2000 quando è uscita anche una legislazione che offre a queste donne un permesso di soggiorno proprio perché ridotti in stato di schiavitù siamo riusciti a dare vita, speranza a oltre 6.000 donne compresi anche i documenti, i passaporti l'ambasciata nigeriana ci ha dato 4.000 passaporti senza un certificato di nascita ecco questo creare rete creare comunione questa è la nostra forza e allora in questi ultimi anni che siamo riusciti non solo a creare una rete tra di noi in Italia con altre organizzazioni non solo con le organizzazioni dalle religiose che in modo particolare gestiscono un centinaio di case famiglia per il recupero di queste donne perché quando arrivano da noi sono morte tu vedi dei corpi ambulanti che camminano hanno perso tutto hanno perso la voglia di vivere hanno perso la loro spontaneità la loro giovinezza ecco che nelle nostre comunità ritornano ad essere persone ma c'è un lungo cammino da fare che solo l'amore gratuito può donare a queste persone quindi in questo modo noi non solo siamo riusciti a creare questa grossa rete tra di noi religiosi insieme anche con altre organizzazioni con gli enti governativi con le forze dell'ordine ma abbiamo soprattutto cercato di lavorare nei paesi di origine ecco creando soprattutto connessione con i paesi di origine in modo da lavorare e mettere insieme i paesi di origine transito e destinazione ecco quindi la chiesa con la società civile farete questa è la soluzione la crisi economica quanto incide nell'aiuto che dallo Stato delle associazioni di volontariato arriva per risolvere il problema delle donne ridotte in schiavitù in questo tempo così critico guardi noi ritorniamo prima di tutto agli inizi quando abbiamo aperto le nostre case all'inizio degli anni 90 che il fenomeno iniziava a emergere che nessuno conosceva e nessuno era preparato nessuno era organizzato ecco le prime comunità di accoglienza sono state le donne sono state accolte nelle nostre case religiose dove le suori hanno avuto il coraggio di aprire le porte sante dei loro conventi per accogliere queste donne quindi accanto a loro nei loro discorsi noi abbiamo capito che avevamo niente a che fare con la prostituzione avevamo a che fare con una terribile forma di schiavitù quindi le prime case di accoglienza venivano gestite e venivano sopportate proprio dalle comunità religiose dalle congregazioni religiose poi quando il governo ha preso anche atto di questa realtà e ha iniziato a dare anche dei fondi per il sostentamento di queste persone sono nate moltissime organizzazioni in tutta Italia a livello regionale diocesano o di volontariato anche le caritas e quindi c'erano anche dei fondi adesso con la crisi economica purtroppo i fondi sono venuti a mancare molte organizzazioni hanno chiuso perché allora avevano il personale che pagavano avevano tutte le spese che pagavano noi invece come religiose non dovendo pagare il personale perché sono le suore che fanno questo servizio non dovendo pagare l'affitto della casa perché noi siamo in una casa nostra di religiose messa a disposizione e poi la provvidenza ci viene incontro io dico sempre alle suore non chiudiamo anche se facciamo un po' fatica perché noi abbiamo una banca che non va mai in malora e la nostra banca è la provvidenza perché il Signore e i Suoi poveri continua a dare quell'aiuto di cui hanno bisogno ecco la necessità però di essere insieme di avere gli stessi obiettivi le stesse motivazioni e di continuare un servizio anche quando vengono a mancare i fondi materiali l'importante è che non manchi la gioia il bisogno questi valori ecco che ci spingono e qui è proprio il Vangelo che dà speranza anche oggi ecco allora che è il tema di questo bellissimo festival biblico ecco poter dare speranza e noi nella nostra vita quotidiana questo è il motivo più grande più bello e la gioia più grande ridare fiducia ridare speranza a queste persone perché veramente ritornino a vivere ritornano ad essere donne con le grandi capacità che loro hanno per contribuire ad un mondo più giusto più onesto più umano è un mondo più bello dove tutti si possono sentire fratelli e sorelle e figli dello stesso padre è un mondo che è un mondo